. Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 9 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Orosco Pariete. Martedì a rallentatore. Tutto a rallentatore questo inizio di settimana, per molti, compresi gli studenti, il primo dopo le vacanze, e non per colpa della luna focosa intrigono, sostenuta da Mercurio e da Venere, in partenza l'entusiasmo c'è, ma basta un ostacolo, una lungaggine dovuta agli dei delfato, impersonati dalla falci di Saturno che la blinda, per cambiare drasticamente il vostro umore. In pochi minuti perdete grinta e velocità, i vostri obiettivi vi appaiono irrealizzabili e qualsiasi cosa abbiate in pista, un viaggio di lavoro, un affare, un esame, perdete mordente. Ciliegina sulla torta indolenzimenti a piedi e ginocchia, probabile effetto di un weekend sportivo e spericolato sulla neve, drastico il confronto con il martedì e da qui nasce tutto il vostro calo di umore. La paura di restare soli come conseguenza di una separazione improvvisa è enorme, c'è angoscia e un inizio di solitudine importante. Al tutto contribuisce anche uno stato di salute incerto e in sofferenza. L'amore comunque necessita di una sana rigenerazione e bisogna far pulizia di tutto ciò che vi fa soffrire. Il periodo che vi aspetta non contribuirà certo alla vostra tranquillità e serenità e dovrete davvero lottare molto e intensamente per ottenere una vita migliore. Rimandate un acquisto per la casa o per voi stessi, ora è il momento di risparmiare e non di dissipare. Messaggi importanti in arrivo, qualcosa di scritto vi raggiungerà presto. Oggi ponete molta attenzione al vostro bilancio economico, sarà bene rivedere qualcosa per carcare di risparmiare di più. Affrontate con coraggio una situazione che vi sta a cuore, non potete pensare di trascinarla oltre. La vostra dignità soffrirebbe oltremodo e cadreste prede di un gioco snervante che vuole costringervi all'angolo. Momenti delegri in casa. Sii più realista in amore. Evita i prestiti. Procurate di usare una strategia nuova con persone moleste e noiose che vi girano intorno, ben sapete che alcune di esse sono opportunisti, e per il loro stesso opportunismo liberatevene in fretta. Più riposo, una dieta depurativa, del nuoto, terapie con massaggi ma solo da parte di Epserti. Avrai l'approvazione di molti. Riceverai complimenti. Siete pronti alle novità in amore? Fate le vostre scelte e predisponetevi ad accogliere tante piccole novità che a partire da oggi potrebbero cambiarvi la vita. Giornata speciale per alcuni single, venere saprà ricompensarvi adeguatamente di una lunga attesa. Più energica ed elettrizzante invece l'atmosfera tra partner di coppie nate da poco, al massimo di un anno. Per quelle più consolidate venere si limiterà a darvi qualche buona occasione di consolarvi con il vostro partner. La presenza di luna, venere e mercurio nel segno del sagittario insieme a un fluido nettuno, che è ospitato nel buon vicino segno dei pesci, da modo alla parte sensibile, emozionale, artistica, di voi ariete, di riprendere a esprimersi alla grande. Sperimentate questo stato d'animo in famiglia dove godete di un clima di buon umore che condividete in compagnia di figli, figlie, zii e nipoti piccoli. E il moto degli astri, da tecnicamente negativo, psicologicamente faticoso, si sta lentamente trasformando per voi in positivo. Rientro definitivo per tutti con tanti racconti di vacanze, di viaggio e tante foto da mostrare. Subito però la doccia fredda, di colpo realizzate che il vostro tempo, il vostro spazio e la libertà d'azione non sono più quelle di ieri e dell'altro ieri, un'idea che già al solo pensarci mette addosso una grande stanchezza. Ed è solo martedì. Amore ed eros. Sulla vita sentimentale nulla da ridire, magari il partner non sarà aperto e sincero come sempre, ma poiché nel cuore c'è già abbastanza fuoco per entrambi non ne fate un dramma. Non tutte le ciambelle escono con bruco, non tutte le giornate sono uguali, soprattutto di martedì con tanti pensieri per la testa pesanti come piombo. Saluti e baci da una persona conosciuta in vacanza e vi è rimasta nel cuore e a quanto pare anche voi nei suo, peccato che le distanze siano così importanti e le vostre vite alquanto complicate. Quando il destino ci mette lo zampino, troppe le incognite per guardare al futuro con serenità. Vi proponete, come voi sapete soltanto fare, con la forza di slancio e la travolgente calorosità. Difficilmente otterrete risultati negativi, in special modo se festeggiate il compleanno dal giorno 3 al 10 del mese di aprile. State giocando una partita particolarmente difficile in ambito sentimentale, anche se per voi, si sa, le difficoltà e le competizioni sono il sale della vita. Lavoro e denaro Un macigno vi pesa sul cuore per via degli impegni professionali che affollano il programma della settimana dimezzando fin da subito l'iniziale entusiasmo. Qualche difficoltà per chi studia e si trova la strada sbarrata da un test difficilissimo o alcuni concetti e formule matematiche ardui da assimilare. Benone invece i viaggi di lavoro o affari, arriverete a casa stanchi morti ma comunque soddisfatti del vostro operato. Quali sono le professioni, le arti, i mestieri dove il vostro segno eccelle maggiormente? Tutti quelli che abbiano una connotazione di guida, di dirigenza, di gestione manageriale, senz'altro fanno al caso vostro. In mancanza della possibilità di fare il capitano di industria, anche il preside, l'amministratore politico locale vanno benissimo. La riete mostra infine una particolare predisposizione per la professione di avvocato. Benessere. Stanchezza unita a un forte mal di gambe e di piedi, forse per via di un capitombolo o corso durante il weekend sulla neve, oppure semplicemente perché avete sforzato troppo la muscolatura, sempre sollecitata dalle ciaspole e dallo sci. La voglia di sport c'è, ma se il fisico non risponde adeguatamente questi sono i risultati. Qualche pizzico di spezie in aggiunta alla verdura vi aiuterà a digerire meglio e a riprendere tono, lo stesso vale per le tisane corroboranti per la digestione. Per lei, trattare con stranieri per voi a routine, parte del vostro lavoro, eppure stamani qualcosa vi indispone, vi manca la solita fluidità, sbagliate un paio di verbi e siete a corto di sinonimi. Urge un po' di esercizio supplementare. Per lui, che abbigiare siate voi oppure vostro figlio poco importa, è l'essenza quella che conta, la sensazione di essere inadeguati, impreparati davanti a un'interrogazione, incapaci di gestire una prova. Anche gli eroi qualche volta scantonano. Colore delle emozioni, bordeaux. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 10, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.